Buongiorno a tutti. Dopo aver parlato di JavaScript come linguaggio di programmazione, iniziamo a parlare del web. E in particolare parliamo di architetture web. L'obiettivo di questa lezione è quello di capire che cos'è il web e qual è la sua architettura tipica, diciamo, in termini di componenti logici principali, protocolli di rete e pattern architetturali, nonché l'interazione e la comunicazione tra questi vari componenti. Ed osservare però che la maggior parte, se non tutti, degli argomenti che affronteremo in questa lezione saranno poi presentati e ripresi, quindi, con più dettagli nelle prossime lezioni, nelle prossime settimane. Questo è un disegno, diciamo, della tipica architettura web, in cui possiamo vedere che da una parte abbiamo gli utenti, quelli che utilizzano il nostro sito, la nostra applicazione web. Gli utenti vedono il nostro sito, la nostra applicazione web, attraverso quello che si chiama front-end, quindi quello che viene mostrato all'interno di un browser, come può essere Chrome o può essere Firefox. Il front-end gira, diciamo così, sul computer, sul dispositivo dell'utente, quindi a case, in un certo senso, dell'utente, o in mobilità, se il nostro utente sta guardando un sito web, un'applicazione web, sul suo dispositivo mobile. Il front-end, poi, comunica con un server, nel back-end, attraverso internet, qui possiamo dire che c'è internet in mezzo, attraverso HTTP, attraverso la rete, quindi, e questo server, invece, ovviamente, non girerà sul dispositivo dell'utente, ma funzionerà, girerà da qualche altra parte, possibilmente, probabilmente, tipicamente, anzi, a chilometri in distanza da dove l'utente si trova. Questo è un concetto da tenere bene in considerazione, bene in mente durante il corso, perché durante il corso noi avremo il back-end e il front-end che gireranno sui vostri computer, quindi tutto funzionerà all'interno dello stesso computer, ma nella pratica, e questo ha dei risvolti, delle applicazioni, anche su come sviluppate e su cosa potete fare, soprattutto usando JavaScript per tutto, questi due componenti, il front-end e il back-end, sono da sempre immaginare e tenere in considerazione come componenti separati, che funzionano e girano su dispositivi anche fisicamente separati, lontano l'uno dall'altro, dove il front-end, ripeto, gira nel browser del nostro utente, dovunque esso sia nel mondo, mentre il nostro server, il nostro back-end, girerà su un computer, nel cloud, da qualche parte, sicuramente molto, molto lontano da dove si trova l'utente e dal browser che sta utilizzando. Ripeto, questo non capiterà nel corso, in quanto noi avremo tutto sul nostro computer, però questo è da tenere in considerazione da un punto di vista logico. Il server, l'applicazione server-side, girerà in un luogo diverso e avrà accesso a un file system, avrà accesso a risorse diverse rispetto a quello che invece il browser può avere accesso laddove il nostro utente lo farà girare, lo farà, lo utilizzerà. Nel server poi in particolare abbiamo due, altri due componenti principali. Abbiamo sia il server, in quanto tale, poi abbiamo la nostra applicazione che girerà sul server e un server può avere moltiplici applicazioni che faranno cose diverse, moltiplici applicazioni web. E queste applicazioni web poi potranno parlare sia con file system per recuperare risorse, come immagini, per esempio, o con un database, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Ecco, il front-end, come vi dicevo, sono tipicamente browser. Browser che usano queste tecnologie e questi concetti principali, che sono quelli che poi vedremo nel corso. HTML5, CSS e JavaScript, che sono i tre linguaggi che un browser riesce a capire e interpretare correttamente, gli unici tre linguaggi. Poi c'è il concetto di DOM e il concetto di eventi, che sono invece propri della programmazione web. Beh, che cos'è un browser? Un browser è un'applicazione, lo sappiamo dal nostro utilizzo quotidiano, che visualizza delle pagine web. Queste pagine web sono pagine HTML, quindi scritte con questo linguaggio che si chiama HTML, le quali possono, e tipicamente lo fanno, essere collegate ad altre risorse. possono essere collegate a risorse di tipo CSS, quindi risorse stilistiche, che dicono come una pagina web appare in termini di colore, in termini di layout, quante colonne ha, per esempio. Possono essere collegati a file JavaScript, che danno un po' di dinamicità alla pagina, che altrimenti rimarrebbe statica, solo da leggere, da cliccare dei link e da visualizzare, e poi ha delle immagini o dei video, quindi un contenuto multimediale, che il browser carica. Quindi il browser carica il file HTML e poi va a vedere quali sono le dipendenze, diciamo, i file che sono collegati a questo file HTML, che possono essere di questi tre tipi, CSS, JavaScript, oppure un contenuto multimediale come immagini e video. Questi file, HTML, CSS, JavaScript e immagini, sono o contenuti, o memorizzati, o generati poi dal server, che li passerà, come abbiamo detto prima, al nostro browser, che sarà poi in grado di visualizzarli all'interno di una pagina web. HTML sarà l'argomento, insieme a CSS, sarà l'argomento della prossima lezione, è il linguaggio poi fondante di ogni pagina web, anche quelle che utilizzate le più complesse che vi possono venire in mente. A questo link c'è una piccola introduzione, se volete già dare un'occhiata, ma ripeto, sarà l'argomento della prossima lezione. Un browser, abbiamo detto, è capace a gestire, gestisce queste risorse, HTML, CSS, JavaScript, e gli utenti cosa possono fare con un browser? possono visualizzare il contenuto della pagina, semplicemente leggerlo, possono interagire con gli elementi della pagina, il link, compilare un form, premere dei bottoni, eccetera, e possono poi, attraverso il browser, navigare ad altre pagine o navigare ad altri siti. In ogni caso, comunque, il contenuto di una pagina web è sempre descritto da HTML, CSS, opzionalmente, anche da JavaScript e file di risorse. Quando noi clicchiamo un link all'interno di una pagina web, questo click di un link ci porta a una nuova pagina, tipicamente a un nuovo set di file HTML, CSS, JavaScript. Vedremo, soprattutto in questo corso, che questo non è sempre totalmente vero in termini di HTML, CSS, JavaScript, ma cliccando su un link comunque veniamo portati a una nuova pagina, se non dal punto di vista tecnico e tecnologico, da un punto di vista concettuale. Interagendo con gli elementi della pagina, cliccando da qualche parte, per esempio cliccando su un bottone, questo evento di click può generare quelli che vengono chiamati eventi del browser. Quindi quando clicchiamo all'interno di una pagina web, noi generiamo un evento di click che, se vogliamo, attraverso JavaScript possiamo catturare e gestire in qualche modo. Per esempio, quando clicchiamo un bottone, potremmo catturare questo evento di click e decidere che quando viene cliccato quel bottone un contenuto della pagina che era nascosto diventa visibile o altro. Sta a noi, tramite JavaScript e sviluppatori, gestire questo evento se vogliamo gestirlo. Qual è l'architettura concettuale di un browser? E poi, se volete, nell'ultima slide dove ci sono le reference, c'è un sito web realizzato da Google che racconta come funziona Chrome ma anche con delle vignette carine con molti più dettagli di quello che stiamo guardando qui se vi interessa come conoscenza personale. Questi, in questa slide, sono gli elementi concettuali principali di un'architettura del browser. Alcuni sono probabilmente hobby. L'interfaccia utente, quindi la barra degli indirizzi, il bottone per andare avanti e indietro nella storia, il bottone per aggiungere un preferito alla vostra lista dei preferiti, eccetera. Quindi tutto quello che viene gestito, viene visualizzato dal browser tranne la finestra dove vedete la pagina web che avete richiesto. L'interfaccia utente parla poi col browser engine che è quello che si preoccupa di gestire le azioni tra l'interfaccia utente e il rendering engine. Il rendering engine è quello che effettivamente si preoccupa di prendere i file html, css, css, immagini e renderizzarli in maniera corretta all'interno del browser in modo da mostrarli in maniera corretta. Il rendering engine poi a sua volta parla con un componente di networking che è quello che si preoccupa di fare chiamate http verso il server e di interpretare le risposte e di gestire le risposte, eccetera. L'interprete javascript che è utilizzato per passificare ed eseguire codice javascript quello che per noi finora è stato node qui è quello incorporato all'interno del browser e poi c'è un livello poi c'è il back end dell'interfaccia utente che è quello che viene utilizzato per disegnare widget come le combo box o delle finestre all'interno del browser e poi c'è un layer di data persistence che è una sorta di diciamo così meccanismo di memorizzazione dati all'interno del browser tipicamente questo meccanismo sono i cookie ma i browser possono anche supportare meccanismi di storage un pochino più avanzati dei cookie come per esempio il local storage che è un meccanismo html5 per memorizzare dati con un po' di persistenza all'interno appunto del browser in aggiunta a questi componenti poi i browser hanno questo browser development tool un plugin un'estensione che tipicamente installate di default a volte bisogna solo abilitarla che ci permette di esplorare i file html css javascript le risorse le chiamate htp far debug eccetera di una singola pagina web questo per esempio è il developer tool di firefox vedete su questa pagina su polito.it qui si vede l'html della pagina qui ci sono eventuali errori o warning generati da questa pagina qui c'è il css di questa pagina e si può disattivare modificare vedere in tempo reale le modifiche che ovviamente appena fate il refresh di questa pagina perdete ma è utile per sviluppare per capire se ci sono dei problemi chi fa cosa e se cambiando una certa proprietà il sito l'apparenza del sito cambia in maniera significativa o no se ottenete un certo risultato o meno si può anche poi esplorare i file javascript ma anche tml css in una struttura più da file system e quindi per esempio potete fare debug dei file javascript che sono caricati su questo sito specifico quindi potete mettere un breakpoint e vedere cosa succede a un certo punto in un file javascript quando caricate la pagina allo stesso modo potete vedere tutte le richieste http e il loro stato e le loro risorse che vengono fatte tra dal browser che è quando apre questa pagina web e il server che gestisce e fornisce questa pagina web quindi strumenti di sviluppo all'interno del browser che sono utili per capire come le cose funzionano all'interno del browser e anche come fare un po' di debug e risolvere certi problemi lato front end non lato back end per il quale dal nostro punto di vista continueremo a utilizzare node e continueremo a utilizzare gli strumenti di sviluppo che abbiamo visto in queste due settimane iniziali del corso l'altro concetto che ho citato prima oltre a html css javascript come linguaggi e gli eventi è il concetto di DOM che vedremo con molta più calma la settimana prossima la prossima lezione il DOM sta per document object model è una struttura dati che rappresenta il contenuto di una pagina web è una struttura dati standard è W3C che tutti i browser implementano nello stesso modo e rappresenta tipicamente una pagina html vedete questi sono tag html e rappresenta come questi tag html sono composti e cosa contengono manipolando il DOM attraverso il javascript quindi leggendo e manipolando il DOM attraverso javascript noi possiamo cambiare questa struttura che rappresenta il contenuto di una pagina web a nostro piacere a nostro bisogno quindi possiamo eliminare un elemento possiamo aggiungerne un altro possiamo modificare il test di un elemento eccetera 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 e sono una serie di api standard e il DOM è rappresentato da una serie di api standard e standardizzate e che tutti i browser implementano attraverso le specifiche di html5 mentre come vi ho detto prima l'html rappresenta come una pagina viene strutturata quindi che cos'è un titolo che cos'è un un paragrafo che cos'è un'immagine che cos'è un link eccetera quando vogliamo dare un layout più complesso o della grafica dei colori uno stile a questa pagina html usiamo il css il css sta per cascading style sheet e appunto permette la definizione di tutte queste cose inoltre css permette a una pagina web di essere adattata a diverse risoluzioni a diversi dispositivi quello che si chiama un sito web responsive quindi un sito web che è capace di adattarsi da uno schermo per un computer desktop magari da 27 pollici al dispositivo mobile riarraggiando i contenuti della pagina html che sono presenti appunto all'interno della pagina è anche possibile attraverso css adattarsi ad adattare la pagina web a diverse preferenze diversi per esempio schemi di colori la modalità notturna la modalità chiara che ultimamente i sistemi operativi stanno implementando anche differenti mezzi multimediali il testo versus video il tutto in un modo standard di nuovo gestito e supportato da tutti i browser allo stesso modo e il css di nuovo lo vedremo a giovedì consiste come linguaggio in una serie di declarazioni applicate ad alcuni selettori il selettore identifica un elemento del DOM un elemento quindi definito secondo la sintassi di html mentre le dichiarazioni ci dicono come quell'elemento deve apparire quale proprietà bisogna applicare a quell'elemento questo esempio diciamo per esempio che selettore h1 che rappresenta un'intestazione un titolo di primo livello deve avere il colore blu e un font la cui grandezza è 12 pixel il tipo del font sarà ereditato sarà una dichiarazione precedente o sarà quello standard di tutta la pagina web o quello standard impostato dal browser quindi sono una serie di dichiarazioni che ci permettono di personalizzare o di dare degli attributi a specifici selettori in base a quello che vogliamo fare vogliamo ottenere oltre al colore alla dimensione del font possiamo anche avere l'allineamento possiamo anche avere se un elemento deve avere dei bordi deve avere delle ombre deve essere come deve apparire un link eccetera 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 infine javascript javascript è lo javascript il javascript che abbiamo visto finora ma quello interpretato ed eseguito all'interno del browser che viene caricato in una pagina html per esempio in questo modo con il tag script poi seguito dalla posizione dal sorgente da dove si trova il sorgente del file javascript è il tipo che è il text javascript e gli script javascript quindi i programmi javascript che girano all'interno del browser hanno accesso in lettura e scrittura sia all'API del browser sia al DOM come abbiamo detto prima per manipolarlo sia agli eventi e alle azioni sempre come detto prima per per esempio gestire cosa capita quando facciamo clic su un elemento specifico il frontend poi parla col backend attraverso abbiamo detto internet e attraverso internet quindi attraverso il protocollo HTTP il protocollo HTTP voi dovreste già credo conoscerlo ma giusto una una brevissima panoramica un brevissimo riepilogo il protocollo HTTP è un protocollo che prevede di avere una richiesta e una risposta la richiesta nel nostro caso è quello che farà il browser e la risposta sarà quella che genererà il server un protocollo HTTP è una versione e ha eventualmente un host ha un metodo che in questo caso in questo esempio è un get ha una serie di header di proprietà di header come che cosa accetta e qual è il linguaggio che accetta e così via che questo sito a www.pulito.it accetta e poi avrà una risposta che in questo caso arriverà dal nostro server che in questo caso che avrà di nuovo la stessa versione della richiesta possibilmente un codice e un'intestazione testuale che indica come la richiesta è andata in questo caso la richiesta è andata a buon fine con 200k la data in cui è arrivata questa risposta di nuovo un po' di intestazione e poi a un certo punto molti non tutti ma molti risposta HTTP hanno anche un corpo del messaggio che può essere per esempio un file HTML o può essere altro ecco noi non andremo ovviamente mai a manipolare a mano il protocollo HTTP queste risposte però sapremo a un certo punto che dovremo fare delle richieste e dovremo gestire delle risposte e dovremo estrarre per esempio il body da delle risposte e quindi ci servirà ricordarci che una risposta HTTP ha per esempio un'indicazione dello stato come 200k ha un header nel caso in cui dovremo manipolarlo e ha poi un corpo della risposta che sarà quello che poi estrarremo per visualizzare in questo caso questo è una richiesta una risposta che il browser fa in maniera standard quando voi aprite un browser e scrivete www.pulito.it e premete invio nella barra dell'indirizzo lui fa una richiesta get al server corrispondente e il server corrispondente se va tutto bene risponde con una risposta di questo tipo fornendo la pagina HTML in questo caso del sito www.pulito.it che il browser estrarrà dal body e visualizzerà correttamente se l'HTML è valido e tutti i file che sono linkati CSS l'immagine eccetera sono disponibili e sono stati passati al browser questo è una panoramica di cosa fa il cosa può esserci nel respond body e può essere vuoto per esempio per degli errori e ci può essere dei file statici nel body che esistono nel server come l'HTML l'ho visto prima immagini javascript CSS quindi file che vengono passati al browser può essere dinamicamente generato dal server quindi non solo ho un file HTML in una cartella del server lo mando al browser ma lo genero al volo e lo mando al browser con lo stesso meccanismo e così via cosa capita quello che vi dicevo prima quando noi scriviamo facciamo una transazione facciamo dal client dal nostro browser una richiesta al server ecco quando noi abbiamo una richiesta come nell'esempio di prima scriviamo un indirizzo premiamo invio nella barra degli indirizzi del browser quello che avviene è una get dal client una get HTTP dal client attraverso internet al server il server attraverso la sua applicazione l'applicazione che gestirà in questo caso il sito www.pulito.it prenderà il file HTML di questa richiesta è una richiesta senza parametri e restituirà una risposta HTTP come abbiamo visto al client le richieste possono anche avere delle informazioni collegate dei parametri collegati al di là in aggiunta della URL in questo caso cosa cambia? cambia poco invece di passare solo la URL al server che quindi in base all'URL ritornerà una pagina specifica che sia di nuovo statica o generata al volo il browser passerà la URL e alcune informazioni di data alcune informazioni che vengono passate insieme a questa URL quindi avverrà una richiesta HTTP con queste informazioni il server lo gestirà vedrà qual è l'applicazione web di back-end che deve gestire nel caso ce ne sia più di una questa richiesta l'applicazione web a quel punto guarderà in quale URL e se come dire un URL che deve gestire lei guarderà quali sono queste dati queste informazioni per esempio se noi inviamo un form facciamo login ovviamente passeremo delle informazioni alla nostra URL per il login come il nome utente e la password ecco quindi verificherà che il nome utente e password in questo caso saranno validi saranno memorizzati da qualche parte quindi sarà un utente che può fare il login che la password sia corretta farà qualcosa genererà in prima battuta un file HTML o recupererà da disco un file HTML per esempio per visualizzare l'utente benvenuto nome dell'utente e poi dirà server mandalo il server prenderà il file HTML passato o generato dall'applicazione web che gira sul server lo impacchetterà in una risposta HTTP corretta e lo invierà al browser che a quel punto visualizzerà la pagina questo è il meccanismo che tutte le volte capita quando voi scrivete qualcosa nel browser o quando inviate un form per esempio nel browser ecco le varie richieste HTTP sono mappate su vari metodi questo di nuovo forse lo sapete già giusto per fare un riepilogo i metodi principali che noi andremo poi a utilizzare che si utilizzano per la maggiore sul web sono questi la GET per recuperare tipicamente delle pagine la GET ha un body opzionale tipicamente non si manda nessun body mentre ha un corpo della risposta sempre ha un corpo della risposta la post si usa per creare risorse per esempio per fare il login si usa la post per fare la registrazione di un nuovo utente su un sito si fa una richiesta HTTP post ha un corpo della richiesta le informazioni che passiamo al login le informazioni dell'utente per creare un nuovo utente eccetera ha un corpo della risposta obbligatorio magari molto piccolo magari molto snello ma ce l'ha la PUT è un altro metodo HTTP che si usa e anche lei ha un corpo della richiesta e ha un corpo nella risposta la PUT tipicamente si usa per aggiornare delle risorse per chiedere quindi al server un aggiornamento di qualcosa e la DELETE come dice il nome serve invece per cancellare delle risorse e anche lei ha un corpo della richiesta opzionale tipicamente vuoto mentre ha un corpo della risposta in maniera analoga a quello che capita col GET il browser è capace inattivamente di attraverso HTML di eseguire GET e POST senza nessun problema per eseguire PUT e DELETE ha bisogno bisogna farlo se si vuole fare attraverso JavaScript quindi inattivamente ovviamente è supportato ma una pagina web senza utilizzare JavaScript senza utilizzare JavaScript non può fare una chiamata GET o scusate una chiamata PUT o una chiamata DELETE quindi abbiamo visto il front-end che corrisponde al browser che utilizza HTML, CSS e JavaScript per visualizzare e fornire l'esperienza utente al nostro utente e abbiamo visto brevemente come avviene la comunicazione tra front-end e il back-end il server quindi in termini di richieste e risposte HTTP e poi a questo punto abbiamo il server web noi nel corso ci focalizzeremo maggiormente su questo non tanto per quanto riguarda l'esperienza dell'utente per cui ci sono altri corsi che si preoccupano di questo ma da un punto di vista tecnico e tecnologico su come creare dei front-end e avremo poi un pochino di server-side di back-end a supporto del front-end ma senza dedicarci eccessivo tempo ed eccessive spiegazioni su questa parte che sarà per esempio anche questa obiettivo di corsi successivi se vorrete seguirli il server il server ha un compito molto specifico quello di fornire risorse web in risposta a una richiesta l'abbiamo già visto arriva una richiesta HTTP il server fa qualcosa e manda una risposta HTTP quindi gestisce anche il compito di gestire l'intero protocollo HTTP sia in termini di gestione delle richieste sia in termini di composizione e invio della risposta come detto prima il server legge o genera pagine web qual è la differenza la differenza è che nel caso della lettura la pagina web sarà già pronta la pagina HTML con CSS e JavaScript sarà già pronta su disco e verrà solo letta nell'altro caso la pagina web invece verrà generata al volo dal server magari partendo da una struttura di pagina HTML statica fissa e poi verranno riempiti gli elementi che mancano a questa pagina web per renderla completa e poterla inviare al client il server ricordate fornisce un file al client un file che può essere HTML un file che può essere CSS JavaScript JSON qualunque altro un file di immagine eccetera ma ha lo scopo di generare o leggere questi file e inviarli ora nel caso di HTML è tipico al giorno d'oggi che la pagina venga generata dinamicamente dal server in qualche misura mentre ovviamente per alcuni altri tipi di risorse come le immagini o come file CSS questi tipicamente vengono letti in maniera statica da disco in quanto l'immagine non c'è quasi mai il bisogno di generarla da zero ma si legge e si passa occhio che il server ha una connessione HTTP per ogni richiesta quindi arriva una richiesta genera una risposta se c'è bisogno di qualcos'altro arriverà un'altra richiesta genera un'altra risposta e è tipicamente multiprocesso e multitrader un server web qui ci sono alcuni nomi di server web per esempio come vedete qui il più comune è Apache o per esempio NGX quindi server web quindi applicazioni server che fanno questo compito gestiscono la comunicazione tra un client quindi gestiscono una richiesta HTTP che arriva e generano passano una richiesta una risposta HTTP al client con Node noi durante il corso costruiremo un'applicazione web che girerà nel back-end quindi che sarà fornita da un server Node fornisce un modulo che si chiama HTTP che implementa un web server di base che è molto limitato molto di base bisogna farsi molte cose a mano per esempio sulla gestione di HTTP delle richieste delle risposte HTTP quello che useremo noi ma verso la fine del corso ripeto perché il nostro obiettivo è concentrarci soprattutto sul front-end e non tanto sul back-end noi useremo Express che è un framework che include che permette di creare applicazioni back-end applicazioni server-side ma che include anche un server web così da poter appunto gestire queste richieste HTTP e risposte HTTP dal client o verso il client ma questo lo vedremo appunto verso la fine del corso ci sono poi altre alternative ad Express per esempio Meteor per esempio Sail .js e molte molte altre nel mondo Node Express è quello più forse semplice e quello anche molto utilizzato in realtà all'interno del mondo Node come server web ecco infine il server web parla con un database o col system e per parlare con un database fa tutto quello che abbiamo visto la settimana scorsa nelle lezioni precedenti sull'interazione col database quindi se fosse in Node avrebbe queste chiamate asincrone al database con queste varie librerie per esempio SQLite 3 o SQLite e poi prenderebbe la risposta dal database per esempio per riempire una pagina web una pagina HTML in maniera coerente e quindi fornire una risposta che sia generata dinamicamente al nostro frontend infine due cenni sui pattern architetturali del web qual è l'approccio tradizionale che adesso si utilizza per tradizionale non voglio dire vecchio ma comunque sicuramente non il più moderno quello più consolidato quello più consolidato è quello che abbiamo visto qualche figura fa qualche slide fa quella dynamic transaction cioè l'approccio tradizionale che il server invii al client una nuova pagina HTML per ogni richiesta che riceve ovviamente con tutte le risorse che sono esso collegate il CSS le immagini eccetera e nell'approccio tradizionale alcune parti di quella pagina possono poi essere aggiornati in maniera dinamica con richieste javascript con richieste javascript che partono dal client e arrivano al server quindi abbiamo un'applicazione web nell'approccio tradizionale che fa un rendering server side cioè la pagina HTML viene generata costruita nel server e poi inviata al client e creiamo così un'applicazione web multipagina perché multipagina perché alla pagina 1 che il client chiederà il server risponderà con una pagina HTML completa alla pagina 2 dello stesso sito della stessa applicazione web il server risponderà con un'altra pagina HTML completa magari una pagina che assomiglia o che ha delle parti in comuni con la pagina precedente però sarà un'altra pagina HTML un'altra risorsa HTML che arriverà nella risposta quindi ogni volta in un'architettura tradizionale che utilizziamo un sito ogni volta che clicchiamo su un link per andare in un'altra pagina quello che capita è che il browser chiede al server delle informazioni per raggiungere una pagina e il server rimanda l'intera pagina HTML con tutte le sue risorse tutte le volte non importa se alcune di queste risorse sono comuni o delle porzioni di pagine HTML sono comuni tra le varie pagine lui comunque rimanda tutto in una nuova richiesta HTTP in una nuova risposta HTTP quello che c'è in più rispetto a questo è che alcune di queste pagine possono avere dei componenti dei file JavaScript che aggiornano una porzione della pagina senza dover ricaricare l'intera pagina come fanno fanno in questo modo allora noi abbiamo l'intera il nostro intero layer in cui abbiamo aggiunto anche il database server giusto per capirci noi abbiamo il client abbiamo all'interno del browser la nostra applicazione la nostra applicazione web che ha anche delle componenti JavaScript cosa succede? succede che facciamo arriva la prima pagina la prima pagina parte da una URL mandiamo una get la get arriva a server il server compone la pagina HTML la home page per esempio di un sito ce la manda attraverso una risposta HTTP e il browser visualizza la pagina poi abbiamo una seconda pagina la pagina per esempio del login e allora mandiamo non solo la URL ma anche le informazioni del login che vengono ricevute dal server che fa qualcosa per esempio parlerà col database per verificare che l'utente sia autorizzato che l'utente e la password siano valide corrette inserite nel database e farà qualcosa e poi a quel punto mandere indietro un'altra pagina HTML che sarà la nuova pagina di login andata a buon fine per esempio o la pagina del profilo dell'utente e a quel punto in una risposta HTTP e il browser visualizzerà la nostra informazione ora immaginiamo che nella pagina del profilo utente ci sia per esempio il calendario dell'utente quindi un componente che può essere magari aggiornato anche in un certo momento e magari il calendario che viene preso viene sincronizzato da più persone un calendario in cui io posso magari aggiungere un evento al calendario di un altro utente ecco per quell'operazione io potrei se io volesse avere il calendario aggiornato frequentemente io potrei utilizzare JavaScript per in un certo senso bypassare una parte di questa richiesta quindi invece di avere il browser che mi prende l'URL mi prende i dati mi fa una richiesta HTTP e il server poi mi genera un file HTML che mi manda indietro con l'intera pagina io attraverso JavaScript questo faccio una richiesta utilizzando l'API del browser ma senza passare dal meccanismo principale del browser faccio una richiesta direttamente faccio una richiesta HTTP ovviamente faccio una richiesta HTTP al server il server a quel punto prenderà la mia richiesta per esempio di aggiornamento del calendario farà qualcosa magari controllerà di nuovo nel database e a quel punto probabilmente non mi restituirà una pagina HTML intera perché non ho bisogno di rivisualizzare tutta la pagina HTML ho bisogno di aggiornare solo un pezzettino di quella pagina e neanche tutto non ho bisogno di aggiornare la grafica di quella pagina non ho bisogno di aggiornare il layout di quella pagina ho bisogno di aggiornare i dati di un pezzettino di quella pagina e quindi il server mi farà invece di un file HTML mi genererà per esempio un file JSON che è un file testuale per memorizzare dati che deriva da JavaScript e mi manderà questo file JSON sempre attraverso questo qui sempre attraverso HTTP che verrà col punto intercettato dalla mia applicazione JavaScript qui che come risultato aggiornerà il calendario ma aggiornerà solo il calendario che sarà un pezzettino della pagina web mentre tutto il resto della pagina web non verrà toccato non verrà aggiornato e non ci sarà neanche una richiesta verso il server per aggiornare il calendario questo per aggiornare l'intera pagina quindi solo una piccola porzione questo è di ripeto l'architettura tradizionale in cui abbiamo da una parte questa modalità multipagina in cui un browser fa una richiesta server il server genera pagina HTML CSS JavaScript immagini quant'altro e l'inviare client e all'interno della pagina ci può essere del codice JavaScript che aggiorna invece dell'intera pagina solo porzioni della pagina e le aggiorna ricevendo non un file HTML completo perché di nuovo non gli interessa è solo una porzione ma ricevendo solo le informazioni necessarie ad aggiornare il contenuto di quella porzione di pagina quindi per esempio delle nuove date se fosse un calendario un nuovo evento se fosse un calendario questa è l'architettura tradizionale quella che tuttora molti molti siti utilizzano abbiamo tre pattern più moderni il primo è single page application quindi quella tradizionale è comunque multi page application perché ad ogni richiesta fatta a server ritorna una nuova pagina HTML un pattern più moderno che è quello che utilizzeremo che è quello che adotta React è questo single page application poi ci sono altri due pattern che vi cito isomorphic e progressive web app l'isomorphic application praticamente è una v di mezzo tra single page application e la modalità classica la modalità multipagina in cui quindi c'è una single page application che però ha un rendering server side e non nel browser e poi le progressive web app che sono applicazioni web che cercano di emulare applicazioni native tipicamente mobile e sono una possiamo dire un'evoluzione dell'altra possono essere viste come un'evoluzione dell'altra un delta rispetto all'altra ma come pattern moderno principale su cui tra l'altro noi appunto ci concentriamo in quanto React implementa questo pattern di default e questa single page application in cui invece di avere come abbiamo detto prima a ogni richiesta http una nuova pagina html css javascript eccetera inviata dal server noi abbiamo il server che manda sempre la stessa identica pagina html per ogni richiesta che arriva quindi al server gli arriva una richiesta per l'home page e lui manda la pagina 1 gli arriva la richiesta per la pagina profilo e lui manda la pagina 1 gli arriva la richiesta per la pagina calendario e lui continua a mandare la pagina 1 ovviamente all'interno della stessa applicazione web chi fa tutto il lavoro di riempire adattare il contenuto lo fa il browser perché in questa pagina ci sarà tanto javascript non ci sarà solo qualche script o qualche linea di codice ma ci sarà molto javascript ci sarà un'applicazione web nel browser fatta interamente in javascript che si preoccuperà di cambiare il contenuto recuperare le informazioni che servono al server in formato testuale in formato json per esempio e quindi aggiornare la pagina web con queste informazioni grezze che arrivano da un server dallo stesso server o da un altro server quindi qual è l'approccio l'approccio tradizionale quello che abbiamo detto prima è questo abbiamo un'interfaccia web abbiamo javascript che fa richiesta http al server che poi ritorna o frammenti di interfaccia utente o json oppure se salta il modulo javascript ritorna direttamente una pagina html e nell'approccio single page application concettualmente quello che facciamo è non passo più in realtà ci passo ancora ma non passo più tanto dalla logica del server in cui ho bisogno di avere delle pagine html ma vado a recuperare direttamente in un certo senso i dati grezzi che mi servono e poi il browser che si preoccupa di visualizzare le informazioni in maniera corretta quindi svuotiamo il server da molto del suo lavoro di logica e lo utilizziamo come fornitore di dati più che come fornitore di pagine html principalmente ci fornisce le informazioni che ci servono e poi il browser che visualizza tutti i dati e si preoccupa di come visualizzarli quindi come funziona una single page application si parte da una pagina html che è sempre la stessa che è fornita da server che è quasi vuota aggiusto magari le intestazioni le parti più comuni e poi c'è un'applicazione web fatta in javascript che gira quindi all'interno del frontend interamente nel browser quindi ogni utente avrà una copia di quell'applicazione web che gira all'interno del suo browser ogni utente della nostra applicazione che aggiungerà il contenuto a questa pagina html in maniera dinamica chiedendo al server o a più server le informazioni che gli servono qual è l'obiettivo della single page application è quello di evitare il reload dell'intera pagina quando si passa da una pagina all'altra e di evitare tempi di attesa un po' più lunghi perché bisogna aspettare che il server non solo faccia le richieste per recuperare i dati esattamente come farebbe una single page application ma anche crei la pagina html che poi venga mandata al browser che poi la visualizzi ma il browser se la crea al momento al volo la pagina html da visualizzare ed esempi di single page application per esempio google doc è una single page application trello se l'avete mai usata è un'altra single page application usata nel web quali sono gli svantaggi? beh ci sono alcuni svantaggi il rendering client side può essere il più lento del rendering della pagina html fatta nel server della creazione quindi della pagina html fatta nel server e poi ci sono alcuni trucchetti per esempio la history del browser le frecce avanti e indietro che avete nel browser non funzionano perché loro pensano loro funzionano quando voi avete una pagina nuova per ogni step una pagina nuova che arriva da server secondo l'architettura tradizionale per ogni step invece voi avete sempre la stessa pagina html che cambia dinamicamente il contenuto però ci sono delle API che si chiamano web history API che permettono di far funzionare di nuovo la history del browser quindi la freccia avanti e indietro per esempio l'ottimizzazione per i motori di ricerca è un pochino più difficile rispetto all'ottimizzazione di un'applicazione tradizionale multipage un po' più di lavoro per lo sviluppatore ci sono alcuni issue di sicurezza da tenere in considerazione perché in questo momento con una single page application tutta la logica applicativa è nel client e non è più nel server quindi ogni ripeto ogni browser di ogni utente che visita il vostro sito la vostra applicazione web ha una copia dell'intera applicazione che gira all'interno del browser e quindi bisogna avere un pochino più di attenzione a tutto questo in parte per avviare questi problemi come vi dicevo sono nati gli altri pattern come quello isomorfico che ripristina alcune cose come server side rendering nel server quindi mischia le due cose o le progressi web app che sono soprattutto adottate per il mondo mobile però questo approccio anche di dividere e qui concludiamo la lezione di dividere i dati la sorgente dei dati da chi si preoccupa di visualizzare i dati stessi è stato anche un spinto dalla nascita dello sviluppo mobile perché perché prima se noi pensiamo all'architettura tradizionale noi avevamo un server e avevamo un browser e il server e il browser parlavano tramite http ma condividevano pagine html e poi il server parlava con un database per esempio cosa succede quando sono date le applicazioni mobile e questo va benissimo continua a funzionare cosa succede quando sono date le applicazioni mobile che noi qui possiamo avere un'applicazione mobile che parla che ha bisogno di recuperare magari informazioni da un server e lui magari non parla html essendo un'applicazione mobile ma scambia dati per esempio in json quindi in formato grezzo e il server poi parlerà con un database allora cosa succede qui vedete qual è il problema qui il problema è che io sto duplicando tutto questo ogni applicazione mobile dovrà parlare con un server che gli restituisce il json e ogni applicazione web invece parlerà con con lo stesso server o con una versione levemente diversa da server che parlerà html e poi parleranno con lo stesso database o con database che sono clonati l'uno dall'altro e quindi se io modifico qualcosa qui devo non solo ricordarmi di modificarla qui ma devo anche modificarla probabilmente qui ma soprattutto dovrò modificarla qui a questo richiede molto più lavoro da un punto di vista del programmatore da un punto di vista della manutenzione da un punto di vista della sicurezza eccetera allora seguendo il nuovo approccio perché noi abbiamo un database diciamo così abbiamo un database poi abbiamo un server qui che rappresenta queste parti che a quel punto ci fornisce sempre e solo json noi non abbiamo problemi a mantenere diversi stack verticali per le varie applicazioni perché con un unico stack che aggiorniamo una volta sola manteniamo una volta sola e ci preoccupiamo della sicurezza una volta sola noi possiamo sia fornire le informazioni che ci servono alle applicazioni mobile non importa quale siano sia fornire le informazioni che ci servono alle applicazioni mobile alle applicazioni web desktop sia eventualmente se abbiamo un sito dedicato fornire le stesse informazioni alle applicazioni web ma che devono girare quindi ottimizzate per il mobile quindi con un unico diciamo così architettura riusciamo a supportare moltiplici cose e se domani qui nascesse qualcos'altro non lo so diciamo realtà virtuale per esempio noi potremmo semplicemente aggiungerlo e non dovremmo cambiare quasi niente in questa architettura mentre qui dovremmo aggiungere un altro stack a lato e quindi duplicare o comunque tenere sincronizzate le varie cose con tutte le difficoltà che possono servire infine come vi dicevo nella reference ci sono un po' di informazioni utili per esempio questo è il sito che vi dicevo prima su come funziona Chrome con anche delle immagini che va anche nel dettaglio appunto di come funziona Chrome come browser questo chiude la lezione sull'architettura web prossima lezione sarà su HTML e CSS a presto